Alle porte della trasferta di venerdì contro il Verona siamo con il direttore sportivo Cristiano Giaretta e partiamo subito dal caso Gonzales, insomma da attualità, rimaniamo sull'attualità con una vittoria un po' del Novara Calcio a 360 gradi, se l'aspettava e cosa ne pensa? Beh ci speravamo molto, non avevo grandissima fiducia devo essere sincero sarei già stato contento dello sconto su un'eventuale giornata però così veramente siamo andati veramente oltre, abbiamo fatto sicuramente un gran lavoro e quindi abbiamo creato probabilmente una cosa anche senza precedenti però mi viene da commentare che giustizia è stata fatta perché è vero che l'arbitro può avere anche il diritto di sbagliare è vero che bisogna anche avere la possibilità di porre rimedio secondo me l'arbitro in quel momento è stato molto avventato nella sua decisione non si è confrontato con il segnaline quindi noi abbiamo già pagato pieno per non aver avuto Gonzales per un'ora giustizia è fatta perché ce l'avremo ancora contro il Verona Ecco, non è per essere cattivi però questa è un po' come fosse un'ammissione di colpa nel senso che l'espulsione non doveva esserci però di fatto il Novara ha giocato contro la Juve Stabia un'ora con un uomo in meno Sì infatti, però questi episodi purtroppo nel calcio accadono ripeto, è importante che ci sia la possibilità di rimediare quindi non essere penalizzati ulteriormente rinunciando a un giocatore piuttosto che a un altro e questo secondo me è già un passaggio molto importante abbiamo pagato un'ora di partita senza Gonzales e quindi con un uomo in meno questo è vero però guardiamo il bicchiere in mezzo pieno ce l'avremo domenica disponibile con venerdì con il Verona quindi già importante Ecco, il mercato si è chiuso da 19 giorni però con noi non ha mai fatto una battuta a riguardo ecco, la Rosa è molto competitiva, ha già recuperato il gap ecco, un giudizio sul lavoro del mercato? Insomma, penso che possiamo ritenerci contenti perché abbiamo rivoluzionato l'intera Rosa sono arrivati 21 giocatori su 26 a disposizione il mister ha delle scelte molto competitive anche in ogni ruolo quindi io penso che possiamo ritenerci soddisfatti abbiamo raggiunto gli obiettivi di cambiare, di creare presupposti per una squadra che possa in futuro darci delle soddisfazioni, abbiamo abbassato l'età media perché 11 sono under e quindi possiamo ritenerci contenti Ecco, il Verona è una delle squadre accreditate dalla stampa, dalla critica come favorita insieme allo Spezia anche lo Spezia così come il Verona appunto hanno cambiato molto e stanno dimostrandosi comunque con pagine importanti quanto sarà difficile a Verona e cosa bisogna aspettarsi? Ma nel Verona sarà difficilissimo, indubbiamente, mi aspetto che il Verona faccia la partita da inizio alla fine devono stare attenti sicuramente alle nostre armi che sono quelle delle ripartenze ecco perché lì siamo competitivi al di là del risultato mi aspetto di compiere ancora un ulteriore passo in avanti mi sembra che in queste prime quattro gare di campionato ne abbiamo sempre fatto una in avanti e questo secondo me è fondamentale proprio perché abbiamo una squadra completamente nuova e quindi se anche venerdì sera a prescindere il risultato usciamo con un passetto in avanti è tanto di guadagnato Anche perché fino ad oggi si è visto un Novara sempre battagliero che ha sempre recuperato, magari in un uomo in meno ha recuperato contro il Grosseto ha tenuto contro la Juve Stabia e in un campionato così impegnativo questa tenacia è determinante? Penso proprio di sì, in tutti i campionati è a prescindere maggior ragione in uno difficile come quello della Serie B sicuramente è importantissimo ma anche per questo siamo contenti perché ogni giocatore di questa rosa ha dentro il sangue, la voglia di uscire con la maglietta sudata la voglia di dar tutto anche per i tifosi e quindi secondo me questo è molto importante Passo per passo però dopo il Verona c'è subito un altro big match in casa contro lo Spezia con una battuta anche sui prossimi avversari Lo Spezia sarà sicuramente una partita difficile faccio fatica a pensare allo Spezia proprio perché venerdì siamo tutti concentrati sul Verona lo Spezia è un altro club comunque che ha costruito la squadra per vincere che che ne dica il mio amico Nelson Ricci ecco indubbiamente e quindi cerchiamo di far bene a Verona poi dico che potremo arrivare martedì con i coltelli ben affilati per lo Spezia